Cominciamo questa conferenza stampa. Ringrazio il sindaco per la cortese ospitalità, ringrazio il maestro giurato che adesso dirà qualcosa, ringrazio il consigliere regionale Taglieri, gli amministratori di Lanciano, l'altro assessore presente e naturalmente tutta la stampa. Mettere su un programma senza sapere su quale budget si possa contare è ad oggi, non lo sappiamo. Spero che il sindaco ci dica qualche parola e soprattutto le voci della regione ci dicano qualcosa in proposito. Siamo in attesa di conoscere quale può essere il budget di spesa di questa manifestazione di quest'anno, anche se il programma è già fatto. Come vedete abbiamo già pubblicato i volantini, i day plan, il programma. Ovviamente gli inviti vanno fatti molto prima sia alle delegazioni estere che agli artisti che vanno presi molto tempo prima. Io spero che la nuova amministrazione regionale voglia dare un impulso sempre più grande a questa manifestazione che è una delle manifestazioni di riferimento in Italia, ve lo posso assicurare. Siamo membri della federazione italiana, membri della confederazione europea e siamo rispettati e conosciuti ovunque. Quindi adesso forse è venuto il momento di non correre più appresso ai fondi, ma che si riesca a fare una pianificazione definitiva per questa manifestazione che ci consenta anche, per esempio, quantomeno di rinnovare il parco abiti che va rifatto. Il masso giurato di quest'anno è il dottor Lanfranco Tenaglia. Stiamo parlando di una persona che conosco da tantissimi anni, di cui ho grande stima, una persona di grande spessore umano e culturale. Attualmente è presidente del Tribunale di Pordenone, un magistrato, come si dice in gergo, idoneo a funzioni direttive superiori, così è stato definito. Nel tempo, per chi non lo conosce, che rapporto ha con Lanciano? Lo dirà lui stesso, ma comunque ha studiato presso il liceo classico Vittorio Maria II di Lanciano, quindi il suo curriculum scolastico è cominciato qui, dopodiché si è laureato alla Sapienza di Roma, dopodiché ha avuto una cattedra anche all'Università di Pescara ed è stato componente eletto, togato, nel Consiglio Superiore della Magistratura. Oltre a questo è stato anche presidente di sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché deputato in due occasioni, in due tornate elettorali. Attualmente svolge la funzione di giudice, quindi per la seconda volta abbiamo un magistrato a svolgere questo ruolo. Abbiamo avuto il giudice Zaccagnini qualche anno fa e adesso abbiamo l'Anfranco Tainaglia, a cui ho rivolto l'invito, sperando fortemente che accettasse a svolgere questo ruolo e adesso ci dirà lui perché ci ha detto di sì. Presidente Marfisi, ci siamo oggi presentato il maestro giurato 2019, un magistrato, quindi per la seconda volta. Come sarà l'edizione di quest'anno? L'edizione sarà sicuramente bella, sicuramente all'altezza della tradizione. Sul maestro giurato non credo che bisogna spendere troppe parole, stiamo parlando di una persona di grande espressore umano e culturale, è una persona che mi onoro di averlo tra le mie grandi amicizie e sono veramente orgoglioso che abbia accettato la proposta di rivestire i panni del maestro giurato. E' la seconda volta che abbiamo un magistrato e quindi chi meglio di lui può essere il magisteri uratos, sono veramente contento di questo. Per quanto riguarda la politica abbiamo voluto la presenza della regione con l'assessore regionale Campitelli, c'era anche il consigliere di opposizione Taglieri, perché per me non c'è il colore politico, la cultura non ha colore. La cultura ha bisogno di sostegno, perché da solo non ce la fa, è impossibile. E quindi intanto la promessa dell'assessore Campitelli della conferma del contributo, come ha avuto anche negli anni precedenti dall'altra amministrazione, per noi è già un primo passo avanti. Adesso attendiamo conferme importanti da parte del Comune di Lanciano, che sicuramente non farà mancare il suo appoggio. Questo è chiaramente quello che noi ci aspettiamo. Da parte nostra il massimo impegno e stiamo lavorando tanto per dare a questa città una manifestazione all'altezza delle tradizioni che a nostro avviso comporta ricadute significative e importanti sull'economia della città. Lanfranco Tenaglia, il Mastro Giurato 2019, lei ha fatto un discorso importante, ha parlato di rivendicazione del territorio e soprattutto ha parlato del giuramento del Mastro Giurato che lei come magistrato conosce bene e si rifà all'articolo 25 della Costituzione italiana. Per me è stata un onore la richiesta dell'Associazione Mastro Giurato del Presidente Danilo Marfisi di svolgere questa carica. Un onore perché è un riconoscimento che viene dalla mia terra, da Lanciano che mi ha aiutato a formarmi culturalmente e poi anche professionalmente. Ma come ho detto nella presentazione è anche un impegno perché il Mastro Giurato non è solo una manifestazione storica ma anche il suggello, il sigillo, la rivendicazione di una funzione che Lanciano e il suo territorio storicamente hanno svolto per l'Abruzzo, per il Mezzogiorno e per l'Italia che è la funzione di essere incubatore di impresa, creazione di ricchezza e impegno della popolazione. Nel Medioevo erano le fiere che nel giuramento del Mastro Giurato c'era l'essenza della fiera, quella di consentire alle persone di incontrarsi, quella di consentire nella legalità le persone di fare commercio e quella anche di accogliere. Cioè il Mastro Giurato aveva la funzione anche di rendere le condizioni perché le persone che venivano da fuori, da lontano, venissero accolte nelle mura della città di Lanciano. E questa funzione la città di Lanciano l'ha continuata a svolgere fino ai giorni nostri. Lanciano e la Val di Sangro sono il motore economico dell'Abruzzo, sono il motore economico del centro e del sud Italia e questa funzione deve essere rivendicata e deve essere conservata. Anche la manifestazione del Mastro Giurato ha questa funzione, quella di ricordare all'Italia, alla regione, a chi ha impegni istituzionali che Lanciano deve essere aiutata a mantenere queste tradizioni. Sono orgoglioso di questa manifestazione, del lavoro che fa Danilo Marfisi con tutti i suoi collaboratori. Siamo alla 38esima edizione e questa cifra dà tutto il valore della tenacia, dello spessore culturale. E mi ha fatto piacere che Lanfranco Tenaglia, il nostro Mastro Giurato di quest'anno, abbia detto una parola importante su cui i lancianesi devono... Questa non è una rievocazione storica, è una rivendicazione storica, perché Lanciano in questo territorio, nel Medioevo, ha dato un segnale fortissimo di una società operosa, innovativa, accogliente, dove i mercanti di tutta Europa e di tutto il Mediterraneo si incontravano e hanno fatto grande questa realtà. Per cui non è la solita sfilata folcloristica su cui si magari trovano delle tracce sbiadite. È una rivendicazione, quindi ringrazio Lanfranco, che ha voluto dare questa caratterizzazione e sono sicuro che per lui sarà lo stesso una giornata bellissima, orgogliosa, anche perché nel suo grandissimo curriculum a praticamente di tutti i livelli della giustizia, gli mancava solo il Mastro Giurato. E questa è la ciliegina, volendo scherzare, che sicuramente darà a Lanfranco questa capacità di essere un Mastro Giurato veramente attinente a quello che era il suo ruolo. Assessore Campitale, oggi la sua presenza, oltre che come assessore, ovviamente anche come cittadino orgoglioso di questa manifestazione, ha annunciato una cosa importante in conferenza stampa. Sì, assolutamente. Allora, oggi l'ho detto e lo ribadisco, sono venuto non tanto da assessore regionale, perché mi sento cittadino di questo territorio. e il Mastro Giurato è qualcosa che appartiene a noi, sta nei nostri cuori, nei cuori di tutti quanti coloro che vivono questo territorio. E essere qui è un motivo di orgoglio, perché il Mastro Giurato è un evento ormai conosciuto e riconosciuto a livello non solo abruzzese, ma anche a livello internazionale, perché tutti gli anni arrivano dall'estero persone che vengono proprio a cercare il Mastro Giurato e a conoscerlo e poi dare il loro contributo. Oggi ho dato una notizia importante, perché io con il Presidente Marfisi ci siamo vestiti subito dopo il nostro insediamento di questo governo regionale e chiedendomi un aiuto. L'aiuto deve esserci da parte della Regione, non può essere soltanto un aiuto istituzionale, quindi una presenza istituzionale, ma deve essere anche un aiuto, un contributo economico. Oggi siamo riusciti finalmente a portare a casa un risultato importante, quella di fare una variazione di bilancio dove individuiamo dei fonti per le manifestazioni storiche e culturali più importanti a livello regionale. E ovviamente è stato inserito anche il Mastro Giurato. Quindi martedì porteremo questa delibera in giunta con questa variazione di bilancio dove al Mastro Giurato arriveranno 50.000 euro.